Ci aiutano i defunti ad affrontare la vita, perché i morti ci aiutano a vivere e ci aiutano a vivere anche le difficoltà della vita che essi prima di noi hanno affrontato. I problemi sono tanti perché è nuovamente messa in forza tutta la struttura, l'impalcatura del nostro vivere in Occidente e non solo. Speriamo di reggere e reggeremo nella misura in cui anche ci teniamo collegati, incordata. Nessuno di noi può vincere questa battaglia da soli e anche la preghiera oggi per i nostri defunti e con i nostri defunti è rivolta all'oro e in questa dimensione. Aiutateci a stare insieme per fare muro di fronte a questa invasione. Tutte le caritas delle altre diocesi, almeno vedo in Italia, sono in prima linea a riempire anche quei vuoti che restano in questo momento sguarniti. L'importante è essere accanto a ciascuno. Ci sono tanti non recensiti invisibili che invece ricorrono perché conosciuti personalmente dagli operatori caritas ricorrono per un aiuto. Quindi il messaggio è fate pensieri positivi e guardate avanti, fate dei progetti, sognate qualcosa da realizzare.